Riparte dopo la pandemia la fiera dei morti di Paternò, ai nostri microfoni l'assessore Salvo Consi. Ripartita anche la fiera dei morti con una location diversa, parliamo della villa Mongata, c'è stata una grande partecipazione. La sera, perché abbiamo fatto un accordo con gli ambulanti, visto che è la loro festa, perché parliamo di fiera dei morti, dove i protagonisti sono gli ambulanti. Si svolgerà di pomeriggio, anche se qualche bancarella e qualche volante preferisce rimanere là anche di mattina, però la vera partecipazione, la vera festa è di pomeriggio. Ci sono delle giostre, c'è un'area food e credetemi c'è una partecipazione. Le persone praticamente avevano voglia di ripartire, sia i commercianti, sia gli artigiani che anche i cittadini, giustamente dopo la pandemia aspettavano questo momento.